Voglio parlarvi del nuovo incontro di gruppo che sarà il 25 gennaio 2023 alle 18.30. Il titolo L'arte di realizzare se stessi è qualche cosa che io ritengo fondamentale avere in mente come progetto di vita. Molti dicono è una buona vita perché mi sono accadute certe cose, è una buona vita se ho vicino alla persona giusta, è una buona vita se mi realizzano il lavoro, è tutto vero, è una buona vita se seguo i miei interessi, è tutto vero. Ma cos'è questa arte di realizzare se stessi? Ci vuole un fermento, un sale come direbbero gli alchimisti, qualcosa che dobbiamo aggiungere vicino a queste parole? L'arte di realizzare se stessi. Se realizzare se stessi è un'arte, noi siamo artisti. Gli artisti hanno tutti una caratteristica, che nelle loro opere d'arte ci mettono sempre un gesto, qualcosa che li caratterizza ma su cui non hanno ragionato. Un giorno ho chiesto a un grande artista come Campigli, l'ho chiesto anche a De Chirico, perché i suoi quadri si somigliano così tanto? Ma non lo so, perché mi vengono? E che poi, guardandoli, mi ci ritrovo. In quei quadri lì, in quelle opere lì, sono io. E quindi sorge spontanea una domanda, che io direi che forse è la domanda più importante. Quello che è accaduto oggi, mi corrispondeva? Mi apparteneva? Mi ci ritrovo? Oppure, semplicemente, ho seguito una moda, il pensiero di un amico o di un'amica, ho cercato di fare certe cose per difendermi da alcune paure, per esempio una paura che colpisce tanti di noi, la paura dell'abbandono. Quali sono i codici per l'arte di realizzare se stessi? Voi sapete che nei nostri gruppi di incontro noi cerchiamo di mettere le basi ogni volta per aprire delle stanze che magari non vediamo, ma che ci appartengono. Se tutta la mia mente è posizionata, solerizzarmi seguendo quelli che sono i canoni comuni, prima o poi, prima o poi, succede qualcosa, perché la mia psiche, quando c'è un disagio, mi sta semplicemente avvisando. Guarda, non sei sulla strada giusta. Qualche giorno fa mi è capitato di incontrare una persona che ha raggiunto un grande successo. Avevamo tempo e siamo andati a bere, lui mi ha detto, un caffè insieme. Io ho bevuto un cappuccino e lui mentre si parlava ha incominciato a bere un cocktail martini dopo l'altro. Era le undici e mezza, siamo stati seduti fino a mezzogiorno e un quarto, a mezzogiorno e un quarto avevo ordinato il sesto. Gli occhi cominciavano a brillare e incominciava a uscire dagli occhi una tristezza, una cellula alle lacrime che subentra spesso nelle persone che bevano molto. Voi direte, ma come? Mella vita ha realizzato, tanti soldi, successo, le persone che lo fermano e cosa c'entra? Quell'infelicità coperta dall'alcol? Poi è venuta a accompagnarmi nel mio studio ed è scoppiata a piangere. Mi ha detto, sa, dottore con lei mi sono trattenuto, ma io arrivo a sera che sono ubriaco. Aveva realizzato se stesso? No. Aveva avuto successo, ma non aveva realizzato se stesso. E molti mi scrivono come è possibile che attori, attrici che possono avere quello che tutti chiamiamo tutto che poi si perdono nelle droghe, nell'alcol, come l'infelicità. Ecco, quella tristezza, quell'ansia, quella paura, quell'insonnia, quelle relazioni infelici, dolorose, sono il richiamo. A volte sono il primo richiamo, a volte sono l'unico richiamo della felicità di realizzare se stesso. a seconda di come affrontiamo il disagio noi possiamo avvicinarci alla realizzazione o allontanarci a un punto tale, come è successo a quella persona che dicevo prima, da diventare stranieri. pensate, il vostro seme sta facendo il vostro albero e voi invece state seguendo, abbracciando una pianta che non c'entra niente con voi. Quindi l'arte di realizzare se stessi è riposizionare lo sguardo su altre immagini. e poiché dentro ognuno di noi c'è sempre una guida, qualcosa che lo richiama al se stesso, al sé, al nucleo, alla sua semenza, ecco, a questo serve la psicoterapia, a ricordarti che c'è un altro dentro di te e quel un altro in realtà è l'altro, il vero altro che sta costruendo te stesso. Non il te stesso che conosce e vuoi uniformare i modelli esterni come è successo a quella persona, ma quel te stesso che segue la sua natura.